Gentili telespettatori, buona giornata. Chi non è contro il centrodestra è un collaborazionista. Eh sì, in un articolo che ho trovato su un giornale di destra, dice che questa è una realtà. E c'è Franco Monaco della sinistra post-democratica che ha rimproverato a Giorgia Meloni su Domani, quotidiano, il giornale di Carlo De Benedetti, non solo il rapporto irrisolto col suo passato, ma anche se la Premiera ha 47 anni, non sappiamo quale sia il problema irrisolto col suo passato. Quindi la Meloni ha vissuto vite precedenti, chi lo sa. Ma anche di aver reclutato nel suo governo, per occuparsi di fisco, Nicola Rossi, economista in origine da D'Alema D'Alemiana, parlamentare pure lui, che sarebbe l'ultimo caso di aperto collaborazionismo con la destra di esponenti politici forgiati nel Partito Comunista e nei suoi meandri. Quindi, se tu, Nicola Rossi, che sei stato un D'Alemiano, uno vicino a D'Alema, e che sei stato addirittura nel Partito Comunista italiano, se collabori con la Meloni, lavori con la Meloni oggi nel 2024, diventi un collaborazionista. Bene. Come si spiega questo, dice, in un centrodestra che oltre al passato della Meloni ha l'inconveniente del gene berlusconiano, poi il passato della Meloni forse si riferisce a quando aveva 15-16 anni che... forse, dice, l'inconveniente del gene berlusconiano, già dimenticavo, c'è pure traccia di quella buonanima di Silvio Berlusconi in questa maggioranza alla quale avrebbero ceduto e starebbero cedendo pezzi o singoli esponenti della sinistra proveniente dall'insospettabile PC anche di Massimo D'Alema, che in verità già il compianto Giampaolo Pansa aveva immaginato molto amici, con Berlusconi chiamandolo D'Alemoni, ma Monaco evidentemente non si era accorto, ma a questo punto perché molti della sinistra si avvicinano alla Meloni? perché nel programma elettorale di Giorgia Meloni ci sono tante cose, tante cose che magari vengono assolutamente incasellate a destra, però poi ci sono tante cose che erano priorità assoluta della sinistra, quindi nel programma meloniano, nelle idee meloniane, c'è una sorta di trasversalità, la Meloni cerca di raggiungere i principali obiettivi della destra e del centro-destra, ma cerca anche di raggiungere i migliori obiettivi della sinistra, cioè quello che di sinistra può interessare la Meloni lo persegue, e questo fa sì che magari persone che tanti anni fa gravitavano intorno al Partito Comunista o comunque a sinistra, oggi si avvicinano e collaborano con Meloni perché vedono nella sua politica anche un'impronta evidente di sinistra. Come lo era tanti anni fa, c'era uno con pochi capelli che era molto amico del fondatore del Partito Comunista italiano che si chiamava Bombacci, se non sbaglio. quindi quel signore con pochi capelli con la divisa che si affacciava dal balcone tanti anni fa, il suo più fraterno amico era il fondatore del Partito Comunista italiano Bombacci che è rimasto con quello in divisa fino all'ultimo minuto a Piazzale Loreto. Questo per farvi capire che ci sono a volte delle ideologie o dei politici che hanno l'intenzione di fare le cose giuste indipendentemente che siano di destra o di sinistra e poi così personaggi o politici di sinistra inspiegabilmente apparentemente in maniera inspiegabile li trovate vicino ad esponenti di destra. Ma come mai quello che prima era nel Partito Comunista adesso è lì che collabora con la Melonica di destra? Proprio perché a volte ci sono politici che fanno cose sia riferite a una parte politica sia anche riferite all'altra per una sorta di trasversalità inconscia. Forse mi sono addentrato in un discorso un po' complicato che parlarne in pochi minuti risulta magari un po' superficiale però attenzione che non lo è non lo è ve l'ho detto quello senza capelli era amico fraterno del fondatore del Partito Comunista Italiano Bombacci ditemi voi che cosa significa una qualche spiegazione ce l'avrà evidentemente comunque oggi quelli che comunque collaborano con Giorgio Amiloni o con il governo vengono definiti collaborazionisti attenzione che questo termine non è quello che sembra il collaborazionista è chi commette il reato di collaborazionismo i privati di governi alleati con l'occupante tedesco nel BN 1943 1945 in Francia e in Italia quindi il collaborazionista era quello che durante la seconda guerra praticamente collaborava con il nemico per trarne un vantaggio personale ecco che in quegli anni era un reato collaborare con il nemico quindi quando si parla di politici del ex partito comunista che collaborano cioè fanno i collaborazionisti della Meloni cioè sarebbero delle persone che stanno collaborando con il nemico non con degli avversari con un nemico quindi attenzione che la parola collaborazionista non è quella che sembri collaborazionista è uno che collabora no era un reato nella seconda guerra e quando tu collaboravi con il nemico per averne un vantaggio personale grazie a tutti e arrivederci a presto grazie a Grazie.